Restiamo ai contesti non comuni. Un sito web e un progetto della regione toscana faranno conoscere le bellezze e le attrattive turistiche anche sconosciute di tutti e 279 i comuni della regione, chiamati ciascuno a raccontare il proprio territorio. La presentazione stamattina a Roma. Francesco Tei. È online da adesso, toscanaovunquebella.it, il sito frutto del progetto della regione toscana realizzato da Fondazione Sistema Toscana Toscana Promozione Anci. È andato in rete in contemporanea alla sua presentazione a Roma nella sede dell'Associazione Stampa Estera. Il progetto fa incontrare le nuove tecnologie, il web e la parola scritta perché ognuno dei 279 comuni della Toscana si racconta qui con un testo che può essere anche d'autore come quelli degli scrittori Marco Vichi per Impruneta e Marco Malvaldi per Pisa, del pittore Gian Paolo Talani per San Vincenzo, di Margaret Mazzantini per San Casciano Bagni. Per ora di questi racconti ne sono arrivate una cinquantina come racconta il coordinatore editoriale del progetto Simone Lenzi, cantautore, sceneggiatore e scrittore. L'idea era appunto quella di fare in modo che i comuni, a partire dai comuni, una narrazione diciamo dal basso, quindi ciascuna realtà territoriale, trovasse in sé qualcosa che meritasse, che avesse voglia di raccontare agli altri. Con questa iniziativa noi portiamo tutta la Toscana, tutta insieme, all'attenzione dei turisti, dei viaggiatori, di chiunque voglia visitarla. La Toscana non è solo le città d'arte, la Toscana non è solo certi paesaggi particolarmente conosciuti.